Controllate i settori, pronti a fuoco. Controlling 2-1, le comunicazioni nemiche indicano che si trovano ancora nell'area. Le frecce elettriche possono agire sulla vasta area. Provale nel lago laggiù. Attenzione, attività è regolata nella struttura del pericolo. Attenzione, Prophet. Rinforzi sale in arrivo. Attenzione, l'asserva principale è stabilita. Continua in arrivo. Dobbiamo al stanardo, andiamo! Puoi giocare a nascondino? Fatti vedere! Putta la caccia! Siamo in posizione nemica. Ok, via, via! Sembra di vedere qualcosa. Bloccatelo! Basta! Siamo scusati! Siamo scusati! Ok! Isolamento di sicurezza. Arriva! Lanciata! Avanti! E occhi aperti! Di nuovo, copritemi! In copertura! Periodo! E' un'altra suona! Che trasporto! Dove sono i rifiuti? Grazie a tutti!